Ma che fare? Questa squadra non gioca un carassi. Giocati, Alessandro, sinistra, tutti insieme adesso. Ma che passa, mamma mia! Ma che cosa! E' ballone a cruzare! Devo aspettare la squadra, il squadrone. Ma che fare? Non c'è fare niente a riberdetti. Ma che fare? Questa squadra non gioca un caragli. Giocati, sinistra, Alessandro, cosa stai fanno? Questo, 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 questo! Molto buono! Molto buono! A marcare, fuorché il tempo passare. E non a marcare, ma poi! Non a marcare! Andiamo, andiamo! Andiamo, tutti i persenti! Ma che fare? Ma che questa vita! Ma vedete? Buono, cruzamenti! Se fanno, se fanno adesso, adesso, ragazzi! Va bene? Ciutati, palizzi! Palizzi, sequini! Perfetto! Guare guardiamo! Facciamo proprio! Figlia! Guardiamo, facciamo proprio! Guardiamo, facciamo proprio! Guardiamo! Guardiamo, facciamo proprio! ...健emi... Molto buone, campione, 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 e andiamo, accapati, campione.